ciao ciao a tutti benvenuti o bentornati in questo nuovo video ASMR oggi vi porto la continua di Crash Bandicoot 4 e vediamo abbiamo fatto i primi due livelli ora andiamo avanti con il secondo mondo e spero che questa serie vi piaccia vi ricordo di lasciare un like sotto il video se vi è piaciuto di iscrivervi al mio canale e se vi va di sostenere il mio canale lascio il link in descrizione iniziamo con il secondo mondo che è molto difficile a mio parere questo livello i primi due livelli vedendoli quando li ho giocati a casa del mio ragazzo sono abbastanza difficilotti infatti farò altamente schifo cadrò un bordello di volte e infatti non so se mettere le vite infinite vediamo vediamo come va la vedo male comunque a casa del mio ragazzo l'ho finito già siamo arrivati all'ultimo mondo e dobbiamo rifare tutti gli altri livelli per completarli per bene tipo non farei più i tre morti per sbloccare le skin e tutte quelle cose lì allora qua abbiamo la maschera nuova che abbiamo trovato adesso mi ci devo un po' affiduare è abbastanza difficilotta queste maschere nuove a schifezza se sentite sto casino è la mia playstation che sta esplodendo apprezzando impressionante del casino che fa allora madonna mi ero dimenticato il tastino da schiacciare ok aspetta ok aspetta ma che si fa questo? così oddio stavo cadendo ok ci saranno sicuramente cose nascoste che non so se mi ricorderò dove sono ok oddio 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 no 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 ok ci siamo l'abbiamo fatta l'abbiamo fatta fino adesso per ora ok ah qua ci ci vuole brutto 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 adesso di sicuro manco qualche scatola perché non sono brava a questo ciclo no 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 oddio oddio mamma mia quando sono deficiente che stupida che sono caspiterina adesso mi faccio prendere dal panico che sbaglio ok perché perché io non ci ho giocato a questi schemi cioè li ho solo guardati e quindi non non sono capace no la scatola e niente e niente è stato bello finchè è durato era ovvio che morivo era scontato ok ok dai oh ma allora sono scema che problemi ho e via sono andate le tre morti per leggerla skin mamma mia che noia uff ce la farò a prendere la scatola me la ricorderò ok ok oddio ok era facile potevo farlo già al primo colpo la sua scema no nooo mamma mia ragazzi che vergogna ma dai però no adesso non cerco più buttati giù buttati giù perchè non può cadere come la prendo? adesso con la scatola non si sa ok 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 no ho perso vite proprio stupidamente ok 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 no di nuovo lo scivolo oddio non stavo saltando allora no ma 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 dai ma perchè non me l'ha preso nooo nooo complicato complicato assai ok oh fd la mamma mia che fastidio oddio non devo saltare le scatole non devo saltare le scatole che nervoso quello scivolo orribile io odio i livelli con quello scivolo di merda scivolo brutto vai di là madonna non va grazie al cielo guardate qua c'è una scatola misteriosa che nessuno avrebbe mai visto in vita sua oddio i bonus mamma mia mamma mia andiamo un po' non me lo ricordo più com'era questo bonus una rottura come al solito questa maschera madonna quanto sono scemo poi non sento cioè io non così che non si mette l'audio non capisco nulla ok scopriamo quella poi scopriamo quella poi scopriamo quella ok 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 Per fortuna, andiamo avanti Sono morta sette volte Mamma mia che fa sedili a sta cosa Qua c'è un segreto Oddio Dimentico che sono questi casi traballanti Qua non c'è niente No Ok Dico non c'è niente E' un po' Andato avanti Mamma mia quanto sono dei piccette Guarda raga, lo so Vi starete facendo Vi starete Oddio Vi starete facendo quattro risate Vi capisco Ve ne farei anch'io Di quanto sono scema Di come cado inutilmente Fastidio Fastidio Possiamo dimostrerlo non so se no muoio stupidamente come stavo per fare in questo momento la so ci sono andata non c'è una gemma allora no mia non 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 ma allora adesso per andare di là difficilissimo ok sono stupida ma perché faccio sto salto di madonna non arrivo non ci arrivo no non ci arrivo ok ok no dai però che noia non si può arrivare in altro modo dovevo andarci con le scatoline ma ovviamente niente da fare tanto morte per morte mi se ne frega ormai ho sperato le morte quindi non mi interessa si ma non da qua non mi interessa qui noia non da qua non ce la faccio a prenderla mi fermerò tantissimo in tanti punti perché non riesco a farli perché sono impedita dai però ma siete che lo faccio male questo salto maledetto perché 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 ma non ci arrivo vabbè vai a cagare la cosa non mi interessa non mi interessa non la voglio prendere ed è anche finita di bello e mi manca una scatola oddio no vabbè mi manca una scatola scatola niente mi manca una scatola dov'è? dov'era? impressionante andiamo avanti mi fanno anche nervoso questi livelli orribili manca anche una scatola il prossimo livello è ancora più difficile di questo mamma mia questo è difficilissimo non ce la farò mai a farlo ma ci perdiamo un costino di tempo proprio provo a fare questo livello sperando che riesco a finirlo e poi nulla è un po' difficile questo non riesco a prendere tutto poco ma sicuro ma oddio oddio e già iniziamo benissimo mamma mia vabbè sono scema anche io che posso quando esce fuoco vedrete fino a qua tutto bene a parte una morte stupidissima che ho fatto vedrete poi com'è difficile chissà se ha preso tutto non sento l'audio credo di sì spero di sì ma ne sono sicurissima oddio ho spavato il lavato no ecco ho visto una cosetta guardala qua ok oh no la gemma rossa quindi non serve di prendere tutte le scatole perché non ho ancora la gemma rossa quindi a posto anche se è salto qualche scatola chi se ne frega difficilissimo eeeh già ne ho saltato un sacco sotto c'è quella cosa magnifica che vengono a fare una cosa pazzesca per andare via mamma mia cioè cose che non riesco a fare dai che fastidio però non ho capito cos'è che ho sbloccato no 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 ok si fa così non so come ho fatto a farcela comunque buono miracolo oddio la gemma almeno questa gemma nascosta l'ho presa l'altra non so cosa dirvi non sono riuscita a prenderla scema in più ho anche mancato una scatola nervosissima livello brutto livello di merda proprio bastardo che ho mancato una scatola fastidio enorme ma mamma mia che noia ma devo rischiacciare sto coso che pace mamma mia stavo per beccare la nita come una sceva sta ferma ok boh non so credo che questo sarà difficile mamma mia sì è difficile allora vediamo aspetta un attimo qua cos'è che bisogna fare ok è questo prossima volta si spaccano tutte ok ci siamo facciamo queste odio questa cosa che quando ci passi sopra una volta poi si spaccano non devi più starla a contare cinque volte oddio non ci ho pensato non ci ho pensato ok fate come no 23 24 24 dove è mamma mia quanto faccio schifo perché mi manca una scatola è un disperato dov'è l'altra scatola che non ho capito dov'è boh non ho idea di dove sia l'altra scatola eccola là mamma mia quanto sono stronzi sono bastardi te li nascondono proprio proprio di brutto te li nascondono tipo sono cazzo non la vedi sono cazzi tuoi ti stai più attenta sì comunque i livelli sono assurdi andando avanti sono un po' più assurdi sono difficilissimi inimmaginabili almeno per come sono io per me sono difficili il mio ragazzo che è bravo a questo gioco anche lui ha detto che sono difficilissimi quindi se lo dice a lui vuol dire che lo sono ma guardate che robe stavo anche cadendo per fare questa roba ok non so perché non ci sia niente bom oddio questa scatola non sapevo no no togliti ho preso paura abbiamo finito il livello se non sbaglio oppure no 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 abbiamo finito ok sono scima io sono scima io di nuovo questa maschera di merda quella che viene nell'altro mondo ancora è ancora più brutta la maschera è ancora più più strunza ok di qua dove si va qua credo che ci sia no 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 allora 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 calma ok devo guardare bene tutto perché sennò mi perdo ok c'è anche il C per fortuna io ho più veramente voglia di rifarlo oia mi son graffiata il naso che male 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 boh ambiguo ambiguo ecco questo lo pelle odio anche ok eh di là si va da un'altra parte oddio ho fatto un auto velonissimo senza rendermene conto per fortuna oddio che cose difficili vedi come vado di là adesso mamma mia quanto sono scema ce l'avevo fatta sono sempre la solita niente niente e ero il primo colpo no volevi pensavi ci vuole concentrazione e faccio così e ho fregato tutto tempo ok adesso devo andare di là da qua da qua da qua adesso cado eh oddio che culo no raga culo pazzesco buon si c'è la gemma non c'era ok buon fatto male perfect se no si possono prendere per la gemma le morti ne ho fatte di più ovviamente non ho preso neanche abbastanza abbastanza mele ma come possibile ma vabbè non è importante poi le rifarò più avanti è vero mi potrei far vedere il questo il nostro flare pack come vediamo lo facciamo sono carini però un po' complicati certi qual è? più avanti c'è più avanti che vai con i livelli sono un po' più difficili un po' retro dove sto andando dove sto andando ok ok buon comunque questo è il più cioè non perdi né vite né nulla quindi non è niente di speciale mamma mia quanto sono scema con i livelli non è l'inologically che che rispare cosa mi sta saltando 1, 2, 3 4, 5 ok, ok facciamo così, così, così così ci siamo, ok ce la stiamo facendo, non diciamolo troppo forte e ad alta voce ok ok 1, 2, 3, 4, 5, 6 facciamo prima cosa è su e poi questo è già cioè, sì, livello stupido cioè, sono livelli in più niente di che ve lo volevo far vedere se magari non avete il gioco ok ok bueno fatto adesso io li trovo difficili questi livelli magari per voi non saranno difficili ma lo so ciao ciao mi sono andata incontro come una scema ok se so mai ci sono cose misteriose nascoste oddio e sono cretina sono stupida sono imbecille chiaro? ovvio? classico mamma mia oddio quando voglio così ma va a cagare sto stronzo oddio e dai niente raga non so cosa dirvi va così oggi oggi va così va così e va malissimo non va bene per niente levati gribio mezzo alle palle questi stronzi mi fanno perdere vita inutilmente levati un po' ok ma perché? ma dai vergognati oddio non è serata non so cosa dire levati 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 nooo il nastro non devi mai morire per poter arrivare al nastro di merda nastro brutto e da rifare da campo per farla meglio ovviamente però ci ripenseremo più avanti non mi ricordo questi bonus non so cosa sto facendo perché non l'ho schiacciato prima forse dopo schiacciarlo prima voi vi chiederete come ha fatto non lo so comunque ci abbiamo fatto non lo so comunque ci abbiamo fatto guarda ti mando a far culo adesso tonno che noia ma perché cado? perché? mamma mia che fastidio cado per cose banali levati non so che stavo cadendo un'altra volta perché sono scema dai però ma non ho piccato il fuoco togliete 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 nevati mezzo alle palle bolla sto qui zitto oddio questa parte è difficilissima ma cosa cosa fa? perché? è difficile questa parte l'odio non ho schiacciato il triangolo perché? perché non ho schiacciato il triangolo? perché non ho schiacciato oh ma perché sono ringoglionita sono ringoglionita ho problemi no 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 dove sto andando dove sto andando non dovevo fare così mamma mia no raga non è non è non è non è non va bene così non va bene non va bene non va bene e non schiacciato e non schiacciato il triangolo un po' e fermiamoci su questa se questa roba per altri 50 minuti è triangolo schiacciato Aspettiamo Sto coso Sto asciussero di merda Sì che ancora una parte difficile Non è arrivata Arriviamo subito dopo questa parte Come mai? Dammi il C per cortesia Per l'amore di Dio Come si vado a dare l'identità Così Ma Perché non va? Va bene ok Adesso scimmo subito Non so giocare Non so giocare Quattro dice morti Non so giocare Un po' Non so se devo scoppiarla o no Non so Devo scoppiarla Non lo scoppio Non lo so Se lo scoppio muoio Sicuro Al cento per cento Non ho voglia Se si scoppia la fine Un po' Se no Non mi interessa Mi lo frego Madonna quando sono No 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 Faccio il salto mortale e poi oddio perfetto adesso non riesco a salire non riesco il che si riesce se solo così brava non riesco non riesco mamma mia che palle dai però non è giusto da pazienza vabbè mi ero neanche accorta che ti ho sollevito là sopra un altro checkpoint perché hanno detto mamma mia povera do pazienza mi è finito quasi legato non ho preso tutte le scatole ovviamente di sicuro sono sicurissima hanno tante cose del vecchio che riascele hanno riportate qua comunque vabbè tanto fa spaccano le scatole porta dai non ti bloccare dai non ti bloccare è possibile farlo con più di tre morti però non lo ricordo come se fosse la prima volta se le faccio questi livelli ok oddio se sto avvicinando troppo perché vai così lenta mamma fatto finito ok mi mancano due mamma mia che fastidio questa cosa davvero no niente mi spero vabbè basta bene ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto vi abbia fatto ridere di tutte le morti tragiche drastiche e stupide che io ho fatto in questi livelli nulla io vi mando un grosso bacio ci vediamo e ci vediamo e ci vediamo nel prossimo video che continuerò con i mondi insieme a voi ovviamente di fare i livelli magari verso la fine ora no però andrò avanti per farmi vedere per farmi vedere tutti i mondi e i livelli un bacione notte a tutti notte 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 e sogni d'oro ciao ragazzi